Dopo tante polemiche, dopo tanta politica e finalmente ufficiale, Honor 20 arriverà in Italia dall'8 luglio. Io l'ho avuto già qui con me per qualche settimana, quindi ho avuto modo di approfondirlo al meglio. Non ho scelto di pubblicare subito la review proprio perché stavo aspettando informazioni sulla disponibilità del device. Informazioni che sono arrivate e quindi adesso, che molti di voi magari si potranno affacciare all'acquisto di questo dispositivo qui, credo sia il momento migliore per raccontarvi vita, morte e miracoli, ma soprattutto pregi e difetti del nuovo top di gamma di Honor. Honor 20 è il primo dispositivo di Huawei e Honor ad arrivare in commercio dopo tutta la questione con gli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump, eccetera eccetera. Una questione che sembra essere finalmente alle spalle e che quindi non dovrebbe più intaccare i dispositivi Huawei e Honor sia nel presente che nel futuro. In questa recensione però non parleremo assolutamente di questo problema anche perché sembra appunto tutto risolto, quindi i dispositivi Honor e Huawei tornano ad essere affidabili e supportati con gli aggiornamenti, con il supporto al Play Store e alle app, come lo sono sempre stati. Concentriamoci quindi sul dispositivo. Honor 20 si presenta con un design in pieno stile Honor, sulla parte posteriore abbiamo questo retro in vetro con queste sfumature, che però vi devo dire la verità sono diventate negli anni un po' meno cool rispetto a quelle che avevamo sull'Honor 8, sull'Honor 9, anche un po' sull'Honor 10. In questo caso abbiamo un retro che riflette sì la luce ma non va più a creare quegli effetti particolari che contraddistinguevano le precedenti versioni dello smartphone top di Honor. Quest'anno però sempre sul retro c'è una bella caratteristica in più, cioè una terza fotocamera, anzi una quarta fotocamera, dato che Honor 20 è provvisa di una lente standard, di una grandangolare, di un teleobiettivo 2x e anche di un sensore TOF per rilevare la profondità di campo e aiutare nella modalità ritratto. Non ho capito invece però la scelta del LED che è a singolo tono e non a doppio tono. Il retro è chiaramente in vetro ma purtroppo non supporta la ricarica wireless e questo per me è sempre un piccolo difetto. Se uno smartphone è in vetro nel 2019 secondo me deve anche supportare la ricarica wireless. Sicuramente però l'aspetto più innovativo rispetto ad Honor 10 sta sulla parte anteriore dello schermo che quest'anno presenta lo schermo infinito con il foro per alloggiare la fotocamera. Resta uguale però la tecnologia sempre LCD, la diagonale dello schermo è da 6,2 pollici e la risoluzione è pari a 2340x1080 pixel. Questo schermo mi ha veramente colpito, è un LCD quindi non è un OLED, se siete abituati ad un OLED noterete una differenza nei colori e nella profondità dei neri però la luminosità è molto alta, il contrasto è decisamente marcato per un LCD e sono anche ottimi appunto gli angoli di visione quindi tutto sommato è uno schermo che anche poi sotto la luce diretta del sole compice una luminosità massima davvero elevata. Si vede sempre benissimo e regala immagini super definite e con colori assolutamente credibili. Quest'anno però è cambiato davvero tanto all'interno di Honor 20, infatti qui arriva il nuovo processore, ormai non più nuovissimo in realtà quasi un annetto di vita, il Kirin 980 che è stato introdotto per la prima volta sul Mate 20 e sul Mate 20 Pro da Huawei ad ottobre 2018. Qui è un processore nuovo per la famiglia Honor, non nuovissimo perché in realtà era già arrivato sul View 20 ma su questo dispositivo qui, sulla famiglia standard di Honor è per la prima volta presente questo processore qui accompagnato da 6 giga di rame e da 128 giga di memoria. Una dotazione tecnica che lo rende davvero un dispositivo ben più che maturo, ben più che affidabile. Nell'utilizzo quotidiano vi posso subito dire che non riscalda affatto questo processore, non consuma tanto ma soprattutto regala delle prestazioni forse non ai livelli dello Snapdragon 855 nel quotidiano ma comunque di livello molto molto alto, quindi sicuramente un telefono iper prestante che nei giochi, nell'utilizzo quotidiano non vi darà assolutamente mai problemi. Ottima anche la gestione della RAM, sempre garantita dalla MUI che va a killare i processi più vecchi, quelli che vengono sospesi, quindi il telefono va sempre molto molto fluido e scattante per un'esperienza generale sempre davvero appagante. E dato che ho citato la MUI, la MUI torna su questo dispositivo che chiaramente rinuncia almeno per il momento al nuovo software di Huawei non era mai stato annunciato sull'Honor 20 chissà come andranno le cose però sembra tutto risolto quindi non mi aspetto grosse modifiche. Lui ha l'ultima versione della MUI basata su Android 9.1 Pie chiaramente è leggermente personalizzata da Honor ma in realtà questa personalizzazione si estende soprattutto al colore di menu ad alcune impostazioni, ormai l'interfaccia è più o meno la stessa tra Huawei e Honor ci sono pochissime differenze appunto quasi sempre soltanto legate all'app fotocamera e alla crumia insomma ai colori. App fotocamera che permette di utilizzare le tre fotocamere di cui parlavamo prima anzi le quattro sul posteriore quindi riusciamo a coprire più o meno tutte le distanze focali non c'è sull'Honor 20 normale lo zoom telescopico che abbiamo invece visto sul modello Pro su altri dispositivi come il Huawei P30 Pro ma abbiamo uno zoom ottico fino a 2x poi digitale fino a 10x. l'ottica standard è in grado di acquisire foto fino a 48 megapixel c'è anche una modalità ultra detail diciamo così, ultra dettagliata che però fa una sorta di lunga esposizione per avere questi dettagli in più un po' come la modalità ritratto ne consegue che io quando ho provato ad utilizzarla mi sono sempre venute foto mosse e non ho neanche pensato ai dettagli quindi non mi ha convinto tantissimo questa funzione così come non mi ha convinto l'intelligenza artificiale ormai davvero poco incisiva rispetto ai precedenti smartphone Honor non mi hanno convinto i video come al solito e quindi sì una fotocamera che sicuramente va bene per la sua versatilità non vi ho parlato dell'ottica grandangolare che permette di ottenere scatti come questo quindi decisamente molto comoda quando si va in viaggio ad esempio per immortalare un'intera scena, un intero monumento, un intero paesaggio però devo dire dalla qualità di queste fotocamere mi aspettavo qualcosina in più non so se siano problemi software di gioventù se magari Honor avrà modo di intervenire per fixare un po' la qualità degli scatti però ecco dopo aver visto l'Honor 9, l'Honor 8 già con l'Honor 10 ero un po' meno soddisfatto ma con questo Honor 20 ecco sistema di fotocamere molto interessante non c'è dubbio però qualità secondo me che va al di sotto delle aspettative probabilmente per motivi legati al software vedremo se migliorerà qualcosa però secondo me si poteva fare parecchio di più con le fotocamere di questo dispositivo era invece difficile fare di più dal punto di vista della connettività perché questo telefono ha sempre una ricezione top supporta il dual sim, 4G LTE chiaramente non c'è ancora una versione 5G non sappiamo se ci sarà wifi 5, bluetooth 5 anche che è un'altra novità e abbiamo anche il blaster ad infrarossi nella parte superiore chiaramente l'NFC e poi beh velocità di download e di upload su rete dati e su wifi che sono sempre altissime e per quanto riguarda invece le chiamate oltre ad un'ottima ricezione abbiamo anche un ottimo microfono e un ottimo altoparlante una capsula auricolare integrata nella sottilissima cornice di Honor 20 che però restituisce una qualità di ascolto davvero molto molto positiva un vero peccato è però che questa capsula un po' come abbiamo visto sugli ultimi smartphone Huawei rinuncia all'audio stereo quindi Huawei e Honor si stanno dimenticando di questa funzione che per me è molto importante infatti qui l'unico speaker che riprodurrà l'audio di un video di una canzone sarà quello posto qui in basso con il rischio che se poi lo coprite non ascoltate più musica e un'altra cosa che manca all'interno di questo dispositivo è il connettore jack che non è presente su nessun lato del device ma abbiamo soltanto l'USB-C per la ricarica e per l'eventuale utilizzo di cuffie USB-C non vi ho parlato ancora dei sistemi di sblocco però perché io stesso mi aspettavo un sistema di sblocco diverso su questo device c'è il riconoscimento del volto bidimensionale tramite la fotocamera singola che devo dire è abbastanza veloce e affidabile però di notte non funziona chiaramente o anche quando c'è poca luce non è affidabile mentre il sensore di impronte non me lo aspettavo integrato sotto lo schermo peccato che Honor l'abbia messo qui al lato devo dire è uno dei sensori laterali che funziona meglio seppur io non abbia mai apprezzato i sensori sul lato, sulla cornice perché intanto l'unico dito che potete utilizzare per sbloccare questo device è il pollice destro oppure al massimo l'indice sinistro e per me che ho l'abitudine di tenere spesso pur non essendo mancino il telefono nella mano sinistra dover utilizzare l'indice non è sempre comodo è ben più comodo utilizzare il pollice dall'altro lato però ecco per il mondo dei mancini potrebbe essere molto scomodo utilizzare il sensore di impronte su questo telefono sono un po' pippe no da recensore però c'è da dire che il riconoscimento del volto va bene ed è quello che utilizzerete nella maggior parte dei casi se avete bisogno del sensore di impronte beh armatevi di pazienza e registrate quel pollice destro perché è il dito che potete utilizzare con più comodità e poi il sensore è abbastanza veloce e anche abbastanza preciso parliamo infine di batteria qui dentro c'è una 3750 mAh una batteria che consente ad Honor 20 di coprire la giornata con estrema agilità io ho chiuso delle giornate al 30 e anche qualcosina in più per cento quindi insomma un telefono che poi alla fine se utilizzate anche le modalità di risparmio veramente vi dura un'infinità da questo punto di vista Huawei Honor si garantiscono sempre le migliori autonomie in commercio e questo Honor 20 ripeto non fa differenza la ricarica è veloce non veloce come quella del P30, del P30 Pro, del Mate 20 Pro diciamo che in una mezz'oretta lo ricaricate un po' meno del 50% però è assolutamente passabile come velocità di ricarica e soprattutto questa ricarica però avviene soltanto col cavo USB-C vi ripeto mi sarebbe sicuramente piaciuto avere anche il modulo con ricarica wireless che però purtroppo sui dispositivi Honor per il momento non si è ancora mai visto quindi se state per acquistare Honor 20 avete necessità di avere un telefono nuovo e subito allora assolutamente si acquistatelo il prezzo dall'8 luglio sarà di 499 euro che non sono esattamente pochissimi soprattutto per un telefono che è la versione un po' più contenuta dell'Honor 20 Pro ed è per questo che invece vi consiglio se avete tempo per attendere di aspettare l'Honor 20 Pro che dalla sua mette sul lago della bilancia una scheda tecnica molto più interessante è chiaramente anche un prezzo più alto però è la versione top di quest'anno di Honor ed è quella quindi che sicuramente verrà anche più supportata nel tempo e che vi garantirà una migliore esperienza di utilizzo però comunque lui è un telefono onestissimo probabilmente quando il prezzo si assesterà su un centinaio di euro in meno diventerà probabilmente molto più interessante al momento lo promuovo a metà non mi ha convinto la fotocamera ci sono delle cose che vanno bene come lo schermo come le prestazioni dal punto di vista estetico ripeto la parte posteriore non mi entusiasma e la batteria invece è sempre una certezza sul software stesse critiche che possiamo muovere sempre quindi un po' troppo simili a se stesso icone rivedibili però ragazzi questo è Honor 20 vi aspetto nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate voi e se volete acquistarlo trovate tutti i link qui sotto nella descrizione del video noi ci risentiamo molto presto in un nuovo video ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.it grazie a tutti grazie a tutti